Io non vedo l'ora di aprire tutte le cose che sono arrivate oggi, sono arrivati degli altri pacchi. Questo è uno, come al solito iniziamo ad aprire quello di minor valore e poi teniamoci la ciccia grossa per il gran finale. E ovviamente lasciate un mi piace, un'iscrizione e un commento a questo video, a questo canale e a tutti i contenuti che vengono pubblicati su Nerdretro. Dai dai che arriviamo a quota 20.000 iscritti prima di subito. Come sempre grazie a tutti del supporto e della fiducia. Che cosa c'è in questo pacco che sembra roba di cucina? Ve lo mostro subito. Da daaaan! L'ho preso da Vinted, è arrivato. Quanta confusione, non è un video ASMR. E uno, e due, e tre, e hop, là! Set allenatore fuoriclasse, scarlato e violetto, ossidiana infuocata, un ETB di Charmander. A proposito di Charmander e tutta la linea evolutiva, vi lascio qualche video qui sopra nelle schede di quelli che andiamo ad aprircelo. Eccoci qua, con anche la guida giocatore, molto molto interessante. E qualcuno dirà, perché è aperto? Perché non c'è il cellophane, la protezione, tutta la plastica? Beh, perché non è nuovo, semplicemente le monete. I separatori di Charmander, guardate qui che carini, bello Charmander, molto bello. Bustine protettive di Charmander, energie ancora sigillate e dadini, dadini. Ma soprattutto, questo, io l'ho preso principalmente per questo. In realtà ero convinto ci fosse anche la carta dentro, quindi dopo devo andare a vedere l'annuncio di Vinted. Non doveva esserci anche la carta di Charmander al suo interno? Ricordavo di sì dov'è. Il titolo del video sono stato truffato da Vinted e invece in post-produzione mi sono reso conto che la carta di Charmander c'era. Guardate che pellino, bello, che si arrabbia con Pidge, preso da merda con Pidge giustamente. Che cazzo fa Pidge lì davanti? Giusto essere arrabbiati. Però questo è un ottimo modo per contenere tutti i Charizard, BGS, PSA e tutti i grading del mondo che stiamo acquistando una collezione di Charizard gradati vintage nel 2024. Follia. E a proposito di Charizard gradati, qui dentro che cosa si nasconderà mai? Vabbè che l'avrete capito, vi ho detto che stiamo collezionando dei Charizard e quindi questa la conoscete già. Vi ho già fatto vedere un'etichetta PSA di recente su Charizard e allora che cosa sarà mai? One e two e one, two, three. Eccolo qui. Allora questo qui, questo qui è comunque promo ed è comunque appartenente alla stessa collezione dell'altro che avevo fatto vedere l'altro giorno. Non è una carta vintage, però era talmente bello questo disegno. Guardate qua, ditemi se anche voi concordate. A me piace tantissimo. Un Charizard che si rilassa non è una cosa che si vede spesso e volentieri. Ho deciso di acquistare questa carta anche perché il prezzo era abbastanza accessibile. E andiamo a vedere subito la valutazione. Ed è anche questa una Mint valutata 9 da PSA. Una carta del 2022. Non è una carta vintage, però è una carta che in collezione secondo me ci sta molto bene. Eccoli qui, i fratellini. Guardate che belli, anche se sono gradati diversamente. Una da Gratifay e una da PSA. Eccoli qua. Tra l'altro PSA è un po' lo standard di gradazione Pokémon, però il case non è meraviglioso, devo dirvi la verità. E quindi apriamo la loro scatolina e vediamo se ci stanno. Ovviamente non ci stanno, l'ho presa apposta, non ci posso credere. Sono troppo grandi. Benissimo, dovremmo fare così. Così ci stanno? Circa. Un po' in diagonale e poi va tutto benissimo. Ma il video non finisce qui perché c'è un ultimo pacco da aprire. Fatemi vedere se vi piace di più questa impostazione grafica con il mio viso così o se era meglio tondo come prima. Non lo so, sto facendo un po' di prove in realtà per capire qual è la configurazione migliore. E mentre distruggo il pacco vi chiedo, qual è il Charizard più bello di tutti secondo voi nelle carte Pokémon? Perché se ho capito bene che carta è questa, forse questa è la mia preferita di tutte. E tra l'altro potrebbe non essere nemmeno scontato perché è un Charizard un po' particolare. Io sto letteralmente distruggendo una scatola che però, eh dai, è protetta abbastanza bene. Dovrei aver trovato il sacro Graal. Sta nascendo, spinga! È nato! Due sculacciate per farlo piangere e l'aria arriva ai polmoni di Charizard. Ora, scherzi a parte, anche questo è un acquisto che ho fatto su Vinted, credo. Perché ho acquistato talmente tanta roba ultimamente che deve arrivare tutta e pian pianino vi faccio i video. Ok, era difficile farlo muovere questo Charizard con tutto lo scotch utilizzato. Allora, vi dico, non è set base perché quello ce l'ho già all'interno della mia collezione del set base. Non è nemmeno il Dark, l'abbiamo visto all'interno dell'ultimo video. Non è nemmeno lo Shining, di quello parleremo in un video apposito. Cosa manca all'appello? Manca il Blaine, ma anche di quello parleremo. E allora che Charizard è questo? Io credo che a livello di pura illustrazione della carta, quindi di Charizard come soggetto, questo sia in assoluto il miglior artwork che abbiano mai fatto all'interno del gioco di carte per un Charizard. Non sto neanche a dirvi chi l'ha disegnato. Ce n'è uno, il mio idolo di sempre, il gran vecchio Ken Sudimori, numero uno, vecchio cuore. E ancora una volta cerco di chiudere il numero PSA per nascondervelo, ed è questo qui. Oh ragazzi, io per questo vado veramente giù di testa. Io per questo veramente impazzisco. Cioè, guardate che bello è questo Charizard promo. Non c'è in italiano, ok? Non c'è in inglese, c'è così, c'è in giapponese. Ragazzi, ma questo qui è una chicca, eh? Cioè, guardate che bel disegno. Io non sono amante delle carte Holo Reverse, ma questa è una carta meravigliosa. Insieme a lui, nella stessa, tra virgolette, edizione, nel stesso promo, c'erano anche Entei e Picchu. È una carta del 2000, quindi all'età di Dujan Vlaovic. Però è veramente, veramente meraviglioso. E uno, e due, e tre. Anche questo è un Mint 9. Carta veramente, secondo me, eccezionale. Un Charizard di quelli forse nemmeno troppo pompati. Uno di quelli forse meno ricercati. Però ripeto, se devo guardare semplicemente l'illustrazione della carta, ragazzi, questo è Charizard. Il drago, l'ala, la fiamma, il fuoco sullo sfondo. È veramente, veramente bellissimo. Come potrebbe essere diversamente se disegnato dal genio di Ken Sugimori. E quindi anche questo. Apriamo il nostro ETB e lo piazziamo qui dentro. Abbiamo due PSA, una Gratify, e l'altra PSA Dark Charizard, che in questo momento ho inserito alle mie spalle. Anzi, ve lo faccio vedere. Chiudiamo questo deck box. Perfetto, Charmander. E cambiamo la schermata, perché così vi faccio vedere che nello sfondo, oltre alla roba di Del Piero, della Juve, di tutto, c'è anche quello. Lo vedete? C'è Pokémon giallo, Pokémon verde, Pokémon blu, Pokémon rosso, il Game Boy, e c'è anche Dark Charizard. Facciamo una roba. Ve lo faccio vedere così. Guardate che bello. Guardate, guardate che bello. Meraviglioso. Ciao, sempre io, quello di prima. Ne approfitto in post-produzione, insieme al Charmander, che ho finalmente trovato, dopo aver scritto al tipo su Vinted, dicendogli, ma guarda che non mi hai messo la carta. No, c'era, sono scemo io. Informazioni di servizio. Usciranno due collaborazioni. Una sul mio canale, una su un altro. Domani, infatti, registrerò, insieme a Luca, Make a Wish, un video che è una sorta di guida per chi vuole iniziare a gradare le carte nel 2024. Guida anche per noob, come il sottoscritto, che non ha mai mandato a gradare una carta, e ne ha alcune da spedire in America o magari a qualche servizio italiano. Vedremo, domani ne parleremo. E invece un altro video collaborazione che non uscirà sul mio canale, bensì sul canale di Pokémon Card Artworks. E quindi il Charizard di oggi sarà una sorta di antipastino per quel video che andremo a registrare insieme. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.